Bella a tutti ragazzi, siamo ancora noi Mr.Skub, ancora tutti insieme per fare la seconda parte del tanto atteso Fuck You Time che abbiamo deciso di dividere in due parti una per le domande che abbiamo fatte nello scorso episodio che troverete qui in descrizione, andatevola a vedere e oggi invece faremo tutte le sfide che ci avete proposto che noi da oggi e anche nei prossimi video chiameremo la Fuck Challenge direi di iniziare via allora la prima sfida ce la propone Davide Fiscarelli un saluto a Davide che ci scrive mangiatevi un limone con sopra un pizzico di peperoncino tra poco con la sfida Fiscarelli ti odio ma pure la parte centrale è schifosa il peperoncino è messo? si 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 sente? si sente prima l'aspro e poi si sente il peperoncino va beh, tutta, tutta tutta giù, 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 giù no, che brutti è del mosso picco ragazzi, saluto a Davide Fiscarelli per questa schifezza giù, giù, giù vai Marcio giù, 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 giù che vengono mi eccitare che è già un maschio giù, giù, giù 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 è buono Davide Fiscarelli questa? non sai dove ti amatricco giù, giù, giù muovi pure la buccia si è mangiato anche la buccia buono ringrazio in campo Davide Davide ciao Davide no no aspetta, aspetta oltre ciao aspettati la morte sta notte porco dio ok passiamo alla prossima sfida allora Davide pesante ehm sfida fate a gara a chi tiene più tempo di ghiaccio e sale in una mano bella l'abbiamo messo io ho fatto tutto uno ho fatto e adesso andiamo a mettere gli ghiaccio e noi dobbiamo stringere la mano aspetta partiamo ho la tragissima allora a me ho tre via tre due uno no 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 a te ti rimane ragazzi ragazzi oggi già mi so gerato che fanno andare nella stadia mi sto bruciando perché Marco le sfide di Riccieli fanno proprio ahhh io perché sono troppo forte si waliu mi sono compagno di tutti poi waliu 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 ma di chi resiste di più ahhh la basta 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 no marioЫ no quanto ti servisci Ok passiamo alla prossima Antonio Spinelli Antonio Spinelli Questa è brutta Questa è riuscita a mangiarvi 10 chimoniteri Posso rispondere io? Allora Ida ragazzi Allora Tu Tu Sì tu Tu che hai fatto questa cazzo di domanda? Ci hai preso per Sasha Gray? Rispondi Ci hai preso per Sasha Gray? Non lo so Preso la bocca di Sasha Gray Abbiamo la bocca di Sasha Gray A me non sembra Faccio una cosa Vabbè Aspettiamo una cattina di muro Ancora? Basta Vabbè Se c'è una fetta di limone Ci vediamo a spita Antonio Spinelli Ci dispiace se non mangiamo i tuoi decimoni Però Assurdo Non possibile Anche se sciagri come ho detto Abbiamo deciso di Una fettina Dato che l'abbiamo già mangiato Buon appetito A me non fa schifo Ma io non mangio Mangia No no Ma che vuole Perché ci sono l'unico che c'è Che c'è di nocciuro È buono Marco Mamma mia Ma schifo Andiamo avanti Finito Andiamo avanti Perché c'è anche la buccia Veranica Novelli ci scrive Riuscite a mettervi un discotto Su di un occhio Senza toccarlo con le mani Farlo cadere in bocca E mangiarlo Provateci Non deve cadere per terra Ovviamente Perché farlo in un'unica botta è difficile Il primo che ci riesce Vabbè Allora Tra me è una gara Alla fita Sconto Su l'occhio E senza Canto Quanto è bello Una parte Ma è impossibile Qua tocca a lui Ma come faccio È caduto Andiamo avanti È impossibile Ma attenzione Capita Eh Ok No Niente Tocca al prossimo No Come ha fatto Come ha fatto Come ha fatto Ma troppo Ma manca Ma sì Ma altre due opportunità No Ma con solo Un ciclo Buona L'ultima parte C'è anche Non già fa però Uno Ovviamente io Avendo gli occhiali Te lo togliere Non vedo un cazzo Comunce Sconto Vai Aglia 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 Perchè Non lo ripete Vai Prima è andato Michele hai due porterità Non ci vedo più Non fa niente Non ci vedo Già sono cercato Che si manco Ma cosa fa? Ma cosa fa? Attenzione E cade Oh Non ci riesce Che schifo Dai con l'ultima L'ultima Michele ti voglio dire Sono albito L'altro occhio Non devo andare Perché l'avevo Non lo so È l'ultima È l'ultima Eh vabbè È niente Con questa sfida Era l'ultima Il video È finito qui Ricordate di Lasciare un like E mi raccomando Ti iscrivete E mi raccomando Nei commenti Scriveteci sempre Sfide da fare Delle domande Dei joke Che possiamo fare Qualsiasi consiglio Dove noi se lo accettiamo È crescere Dai MrSkub È tutto Dai 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 Dai